A causa delle forti piogge di domenica notte a Scicli, il settore lavori pubblici in collaborazione con la protezione civile e in accordo con l'amministrazione comunale ha individuato la necessità di intervenire in urgenza per il ripristino e la messa in sicurezza di infrastrutture di una certa rilevanza strategica per il territorio e per i servizi comunali. Nella fattispecie si sta intervenendo per la messa in sicurezza e il ripristino del sistema di raccolta acqua e dell'ex discarica di San Biagio per la sistemazione della stradella di attraversamento del guado del torrente Modica Scicli che conduce al cimitero cittadino e per la messa in sicurezza del sistema di adduzione delle acque di rete a servizio della zona per il ripristino e la messa in sicurezza del greto e degli argini del torrente Santa Maria Lanova in prossimità del torrente San Guglielmo nonché la riconfigurazione del basamento del ponte canale Fognario incontrata all'Oderi. Numerosi gli interventi al fine di riportare tutto il territorio ad una situazione di normalità, ingenti danni valutati per cui è stato richiesto al Dipartimento regionale di protezione civile un risarcimento di circa 2 milioni di euro.